Primo giorno di scuola per il Bitonto che quest'oggi si è ritrovato alla città degli Olivi per dare il via alla nuova stagione. Con il professor Giuseppe Urbano scambiamo alcune considerazioni con il direttore sportivo Leonardo Rubini e con mister Claudio De Luca che è l'ultimo arrivato, tra gli ultimi arrivati e quindi potrà subito esprimerci quelle che sono le sue sensazioni al termine di questo primo giorno di lavoro in casa Neroverde. Sì, come ho detto anche in precedenza è un giorno importante perché anche se abbiamo conosciuto i ragazzi già qualche settimana fa hanno iniziato un lavoro anche se a casa, ognuno singolarmente su indicazioni del prof, però oggi come giustamente dicevi tu è come se fosse il primo giorno di scuola, quindi è importante per i ragazzi ritrovarsi, anche per noi ritrovare qualche ragazzo che già abbiamo allenato oppure conoscere anche i nuovi e soprattutto partire con quello che è il nostro lavoro, quindi per noi dopo giorni che sono più giorni dedicati diciamo al direttore, alla società o a situazioni più di calciomercato finalmente è arrivato il nostro momento, cioè quello di lavorare sul campo. Partire per Camerino con un organico praticamente al completo rappresenta sicuramente un vantaggio e la possibilità di immergersi subito mentalmente, fisicamente, atleticamente in questa nuova stagione. Questo è un grande merito e riconoscimento della società, partire con la rosa a disposizione, poter lavorare su quelli che sono i nostri concetti e quello che sarà il nostro lavoro, quindi sicuramente va fatto un applauso alla società per tutto il lavoro scuro che è stato fatto in questo periodo, quindi al direttore in modo particolare e possiamo partire e iniziare subito a raggiungere una buona condizione, un apprendimento tecnico-tattico di quelle che saranno le nostre indicazioni e cercare, come abbiamo sempre detto, di formare un gruppo importante che di giorno in giorno deve coltivare il saper essere gruppo e saper stare insieme. Al direttore Rubini invece chiedo un po' quella che era la prima domanda rivolta al ministero De Luca, ovvero le sensazioni percepite in questa prima giornata di lavoro dal nuovo Bitondo per la nuova stagione? Positive perché sappiamo che lo zoccolo duro del gruppo ha bisogno di rifarsi della stagione scorsa, i nuovi sanno quella che è la volontà del presidente e di tutti noi, quindi dal primo momento, dalla prima chiacchierata vogliamo gente mentalizzata che non cerca alibi e che sia propensa a fare sacrifici. Noi, certo i risultati sono importanti, però l'atteggiamento e la prestazione è quella che conta. Cedo il microfono a Giuseppe Urbano che sicuramente ha delle curiosità da rivolgere al ministero e al direttore. Sì, una domandina a cranio. Per il mister, lo scorso anno durante la gestione di mister Ragno, quindi nella prima parte di campionato, si è più volte sottolineato quanto fosse mancato il ritiro. Non voglio toccare con lei il tasto ritiro dal punto di vista, perché è abbastanza scontato, della preparazione atletica e dei dettami tecnico-tattici, ma lei che importanza dà a queste due settimane piene che ci saranno in quel di Camerino, proprio per la coesione, per la crescita, per la creazione di un gruppo che, lo dicevo anche prima durante la diretta qui sul campo, poche società, poche squadre possono mandare una partenza così anticipata. Quindi quanto è importante fare questo ritiro, che è mancato tantissimo al Bitonto lo scorso anno, da un punto di vista proprio della coesione del gruppo? È fondamentale, penso che qualsiasi allenatore, come ho detto prima, avrebbe ringraziato il grande lavoro della società e non è facile trovare di questi tempi una società che ti permette di lavorare in questo modo. Quindi, come ha detto giustamente il direttore, nessuno sarà alla ricerca di nessun tipo di alibi, perché siamo messi tutti quanti nelle condizioni giuste e migliori per poter lavorare e per poter far bene. E per un allenatore, per tutta una squadra e una società, partire anche qualche giorno in anticipo significa cercare di battere gli avversari anche sul tempo, su quella che può essere, come dicevo anche in precedenza, l'aspetto atletico, l'aspetto tattico, tecnico, la formazione del gruppo. Quindi se si lavora bene si guadagna del tempo. Io ho quasi sempre iniziato le stagioni dall'inizio, diciamo tutti gli anni, e quindi ritengo che quella sia una parte fondamentale. Però non è l'unica parte importante, cioè non bisogna dare solo attenzione a quella parte, ma come ho detto prima è un discorso che poi va portato anche in seguito. Però adesso si pensa a questa parte quasi, bisogna lavorare bene, anche se non ci sono le gare ufficiali che poi naturalmente condizionano in base ai risultati il tutto, bisogna essere bravi, come giustamente ha detto il direttore, ad andare avanti su quella che è la nostra idea. Quindi a lavorare, il lavoro sul campo, soprattutto il lavoro in questo ritiro, ci deve permettere di costruire quello che è il gruppo, la squadra, quelle che saranno le strategie per tutta la stagione. Grazie Mister. Per il direttore, l'inevitabile domanda sul mercato, però andando sul discorso under, se può dirci, per quanto riguarda appunto gli juniors, il parco under, è un mercato chiuso sia per quanto riguarda le entrate che per quanto riguarda le uscite, e come si sta muovendo la società. Cioè il bitonto calcio, quali canali predilige, segue per cercare di accapararsi, in questo momento si può ancora fare perché siamo appunto in tempo per cercare anche il meglio sul mercato, se si segue soltanto la direttrice della squadra del professionismo, quindi di categoria superiore. Faccio l'esempio, la Serie C o la Serie B addirittura, che ha degli esuberi, dei surplus da far crescere nel campionato di Serie D, o se si coltivano, si seguono anche altre strade, società di Serie D, quindi di pari categoria, o addirittura attraverso il lavoro e la collaborazione anche di quella caldarola, un discorso proprio diretto di ricerca under altrove. Collaborazione col settore giovanile è fondamentale, non peraltro ci sono presenti Zazza, Rapio, Guarnaccia, Bevilacqua e Manzi, quindi sfido chiunque, portare 5-6 profili dal proprio Juniores è importante. I risultati sul campo ci hanno sempre dato ragione, Piarulli, Mariani, speriamo quest'anno di avere un'altra conferma, sarei contentissimo di avere un altro Piarulli o Mariani, speriamo che questo accade. Per quanto riguarda poi altri profili, abbiamo chiuso la trattativa con Palumbo, che ben si è distinto l'anno scorso con il mister Abrindisi. Dobbiamo chiudere altre trattative, quasi definito il ritorno di Colella che ha fatto benissimo con noi l'anno scorso e dobbiamo ringraziare anche il responsabile del settore giovanile del Lecce del Vecchio che ha riconfermato la collaborazione, vuol dire che anche loro sono stati soddisfatti del nostro lavoro che è già iniziata, collaborazione che è iniziata due anni fa con Gianfreda nelle file del Lecce in Serie B e con Pierno che si è messo in mostra l'anno scorso nel campionato di Serie C. Io mi auguro che questo anche avvenga con Silvio perché il bene dei ragazzi è la cosa che tutti noi speriamo. E ora abbiamo altre trattative con gente sia che ha giocato sia qualcuno proveniente dal settore giovanile. Bisogna fare un'attenta valutazione. Non è detto che chi fa bene con i ragazzi, con i parietà, poi faccia bene in una prima squadra. Certo, trovare qualcuno che ha già affrontato il campionato è sempre una cosa importante. Dobbiamo chiudere il reparto portieri. Speriamo di farlo il prima possibile, prendere un portiere di esperienza e il nostro credo, d'accordo col mister, cercheremo di mettere o 2001 Martelloni in porta che è già giocato o un altro profilo allo stesso livello. Ringrazio anche il direttore Rubini. Prima di ricevere il microfono a Nicolangelo Biscardi, direttore più titolato che mai. Quindi vanno anche i nostri complimenti e gli auguri per un percorso che ha voluto fortemente. Forse ti ho anticipato Nicolangelo, però se l'inerita perché ha dovuto sudarsela, come si suol dire. Anche fisicamente, i postumi fisici di questo lungo percorso di studio. Auguri al neo fresco direttore sportivo abilitato Leonardo Rubini. Buon lavoro. Ringrazio mister Claudio De Luca e il direttore Leonardo Rubini, ringrazio anche Giuseppe Urbano per avermi accompagnato sin da quest'oggi in avvio di questa nuova stagione, dal Città degli Olivi per la prima giornata di lavoro del Bitonto 2021-2022. E tutto, restate collegati sui nostri canali social e sul sito internet per tutte le novità e ce ne saranno tante che riguarderanno a breve il mondo del Bitonto Calcio. Grazie e buonasera da tutti.